Una bomba d'acqua che ha danneggiato auto, abitazioni, spezzato alberi e messo in fuga tante persone spaventate, tra i quali tanti turisti in Puglia per le vacanze. Non sembra certo la settimana crude dell'estate, quella di Ferragosto, con il maltempo che del nord e centro Italia si è spostato al sud. La situazione peggiore tra Andria e Castel del Monte, dove chicchi di grandine e pioggia ieri hanno provocato notevoli disagi, rendendo difficile persino la circolazione per circa mezz'ora. Alla fine è rimasto un insolito tappeto bianco, mentre sulle strade i soccorritori hanno dovuto lavorare per rimuovere i pericolosi rami spezzati. Maltempo che continua anche oggi, fragellando in particolare il barese. Pioggia a Bari, Bitonto, Mudugna, nei comuni dell'Interland del capoluogo, ma anche a sud. Situazione critica in particolare a Poliniana a Mare, dove in città è saltata la corrente elettrica, così come era già successo nei giorni scorsi. La pioggia torrenziale ha mandato in tilta anche la circolazione, disagi a Monopoli e Mola di Bari. Il peggio, però, secondo gli esperti, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Contemporali e forti raffiche di vento. Anche la prefettura ha diramato un'allerta. I turisti, mordi e fuggi, che hanno deciso di spostarsi solo a Ferragosto, potrebbero incassare quindi una delusione. Il tempo per i meteorologi non sarà buono nemmeno nel weekend. Anzi, pioggia e nuvole saranno padroni indiscusi, soprattutto sabato. Il sole, però, tornerà a fare capolino soltanto la prossima settimana, con un'ondata di caldo record, temperature che toccheranno punte anche di 40 gradi. La pazza estate 2015, insomma, continua.